Una corsa a tre per l'elettorato Pacecoto e Valdericino, i 5 Stelle con Aldo Grammatico e Marcella Mazzeo contro Peppe Scarcella e Filiberto Reina nella piccola Parigi, mentre alle pendici di Monte San Giuliano i grillini avranno contro l'assessore uscente Giovanni Coppola e l'attuale consigliere Francesco Stabile. Tutte le liste civiche sulla carta, ma che sotto sotto riflettono per lo più gli schemi tradizionali centrodestra-centrosinistra. Non mancano le eccezioni, è il caso di Salvatore Colomba in dinamica a Valderice a sostegno di Coppola, iscritto nei democratici e prosecuzione della Giunta Spezia quando 5 anni fa fu il candidato sindaco di Forza Italia. Nella stessa l'ex primo cittadino Lucia Blonda, una vita spesa al servizio dei Valdericini da medico di paese che vuole ancora una volta spendersi per il suo territorio. In stabile sindaco correranno i due uscenti Peppe Parrinello del gruppo dei Popolari, eletto 5 anni fa con Mario Sugameli e Alessandro Pagoto, assai vicino al candidato sindaco. Con loro anche la professoressa Rosalia Messina, molto conosciuta sullo territorio che viene reputata un valore aggiunto per la coalizione. Nei 5 Stelle lista giovane, fra gli assessori designati, l'architetto Maurizio Oddo, già candidato sindaco di Erice un anno fa, che in questi mesi non è stato particolarmente tenero con i grillini, in particolare nella creazione delle liste alle scorse politiche. Anche a paceco la filosofia grillina segue il denominatore comune, tanti nuovi prestati alla politica. Bisognerà attendere il 10 giugno per vedere se sarà premiato dagli elettori nelle urne, a differenza di 5 anni fa, quando ottenere risultati assai deludenti in termini di consenso, ma anche di costruzione di progetto politico. Dalla loro avranno la riforma elettorale che prevede, sotto i 15.000 abitanti, una lista soltanto a sostegno di ogni candidato. Per loro un vantaggio non da poco. In continuazione con l'amministrazione martorana si propone Filiberto Reina, scelta assai contestata nel PD che ha portato alle dimissioni di Stefano Ruggerello, bruciato sull'altare di una candidatura nei mesi scorsi, traslocato con gli avversari candidandosi a sostegno di Peppe Scarcella. Ad ogni modo il gruppo Martorana, buongiorno cognata, è al completo ed in prima linea, sostenendo l'attuale consigliere comunale, fedelissimo Di Baldo Gucciardi. A capeggiare la lista a Reina, sindaco infatti, ci sarà proprio il primo cittadino uscente. Dietro di lui il figlio del professore Salvatore Buongiorno, in ordine alfabetico la presidente del Consiglio Comunale, Marilena Cognata. Fra i moderati, ma guai a circoscrivere con vecchi termini tutte queste liste civiche, è stato invece indicato assessore Gianni Basilicò, che cinque anni fa sfidò Martorana con il sostegno di Forza Italia e del centrodestra. Con loro anche Salvo Rosselli, renziano della prima ora, oggi dissidente Dem, e l'ex consigliere comunale a Trapani, Pietro Caffarelli, tornato ora nella sua paceco. Accettata invece a San Vito Lo Capo la quarta candidatura di Pietro Tolomeo. Questa mattina è arrivato il decreto prefettizio che certifica la validità della lista La Perla di Sicilia a suo sostegno. Avrà dieci candidati, anziché dodici, è indicato come assessori Peppe Aiuto e Franco Galante. Ed è proprio di queste ore il provvedimento di revoca da assessore, firmato dal sindaco Rizzo, che rende ufficiale quello che aveva anticipato Telesud nelle scorse settimane. Una crisi, quella fra Galante e il gruppo che fa riferimento al primo cittadino, che ha portato alla candidatura a Tolomeo, che molti valutano come meramente di disturbo a quella di scola, cui ormai l'ex assessore non ha condiviso fin dall'inizio per scegliere la continuazione dell'amministrazione Rizzo. Ma veniamo adesso ad alcuni degli appuntamenti elettorali. Tre liste, tre assessori e un programma semplice. Si presenta così l'avvocato Vito Gallufo all'appuntamento elettorale del prossimo 10 giugno. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri alla presenza di sostenitori e simpatizzanti nei locali del comitato elettorale di Via Asfalti, alla presenza del deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, dell'avvocato Paolo Ruggeri, coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, dell'ex onorevole Nino Oddo, segretario regionale del PSI e dell'ex senatore Maria Pia Castiglione di Noi con l'Italia. La nostra è un'alleanza di idee con un progetto preciso, chiaro, univoco. Ridare fiducia, certezze, speranze a questa città, ripulirla dallo sporco, dai rifiuti, dal malaffare politico, ripulirlo soprattutto dalle incapacità che si sono realizzate e verificate nel passato. Rilanciarla nel mondo attraverso la soluzione dei problemi che ne riscono turismo, aeroporto, occupazione, lavoro e soprattutto dare fiducia e speranza nei cittadini che l'hanno perso e l'hanno perso nei confronti di una politica che certamente non è stata all'altezza dei tempi e delle nostre esigenze. Abbiamo qui una squadra assessoriale di eccellenza. Sono tre soggetti che hanno delle caratteristiche particolari. Silvana Giacalone, che ha una specializzazione, un escurso professionale, universitario e culturale nel settore del sociale. Un ingegnere, Mauro Tettone, esperto nelle tematiche e problematiche che riguardano il settore dei lavori pubblici e dei fondi. Abbiamo anche il dottor Vincenzo Barraco, esperto in bilanci, conoscitore della movimentazione di natura economica all'interno dei comuni capace di poter raggiungere obiettivi attraverso i fondi europei, nazionale e regionale. Peppe Bologna, candidato sindaco con la lista Scirocco per Trapani, ha presentato la proposta inserita nel progetto elettorale Nuova Città di fare ritornare la vendita dei prodotti ittici nella storica piazza del mercato del pesce. Non avevo idea all'inizio se la gente preferisse l'attuale luogo o altro. Poi man mano che abbiamo fatto il lavoro di contatti con la gente si è compreso perfettamente che la gente, il mercato del pesce, lo vuole alla ciazza. È stato inserito nel progetto elettorale e uno dei capisaldi del progetto complessivamente considerato. Tutte le scuse che sono state prese, conseguenti anche da alcune angherie, saranno in un modo o nell'altro rimosse perché quando si dice che è inagibile come del resto della casina delle palme, tutto è inagibile ma tutto può diventare agibile. Non ho alcun tipo di perplessità o di remora confortato anche da un buon contatto con la gente che è pari al 75% che rivuole il mercato del pesce alla ciazza. Giacomo Tranchida in corsa per la carica di sindaco di Trapani nel corso della puntata di Seconda Repubblica che andrà in onda questa sera alle 21 e di replica alle 23. Tra le altre cose ha parlato delle recenti vicende che hanno interessato il comune di Erice relativamente all'affidamento di alcuni lavori, auspicando che si faccia chiarezza il più velocemente possibile. Ascoltiamo uno stralcio della puntata. Mi auguro che ci sia un'accelerazione delle indagini a 360 gradi. Ho sempre collaborato con la magistratura e l'autorità giudiziaria nel rispetto dei ruoli e della reciproca indipendenza. C'è qualche giornalista che ha avuto un'informativa da parte di qualcuno che sta in procura ai piani alti, di qualcuno che è dirigente delle forze dell'ordine, eccetera, questo è i fatti. C'è qualcuno che mi manda messaggi strani? Io non ci credo. Io non ci credo. Perché confido nella Costituzione, confido nella serietà, nel lavoro, nell'impegno, nell'esposizione neanche a rischio, talvolta, della propria sicurezza personale di chi lavora in procura e nelle forze dell'ordine. Dunque non posso credere e non credo neanche a chissà quali disegni, eccetera, eccetera, strategie e così via dicendo. Se c'è qualche giornalista che ha preso qualche abbaglio, forse ogni tanto dire scusa mi sono sbagliato non farebbe male. Il candidato sindaco per Trapani, Giuseppe Mazzonello, e i candidati della lista del Movimento 5 Stelle presentano questo pomeriggio il Tram Treno, punto importantissimo del programma amministrativo dedicato alla mobilità urbana. Il progetto sarà presentato questo pomeriggio con inizio alle 18 al Beach Bar di Marausa. La candidata sindaca per il Movimento 5 Stelle di Valderice, l'avvocato Marcella Mazzeo, ha incontrato ieri pomeriggio i propri concittadini per le strade di San Marco. Valderice ha sottolineato l'avvocato Mazzeo, racchiudenze tutte le caratteristiche che un territorio deve possedere affinché una comunità umana possa realizzare tutte le aspettative di benessere e il miglior grado di qualità della vita. Bisogna saper cogliere le opportunità e indirizzare le energie, programmando per tempo e potendo contare sulle giuste competenze e professionalità. Il candidato sindaco di San Vitolo Capo, Giuseppe Peraino, ha tenuto un comizio a Magari. Occorre, ha dichiarato, esperienza, capacità, onestà e la collaborazione di tutti per fare rinascere il territorio. Peraino si è soffermato sulla necessità di migliorare i servizi per la frazione, ad iniziare dai collegamenti con Castelluzzo e San Vitolo Capo, intervenendo sul problema della viabilità della via Timpone, dove non passano più gli autobus, con la realizzazione di aree di sosta. Anche parlato dello stato di abbandono delle sorgenti d'acqua e del verde, sottolineando il suo impegno per la realizzazione del campetto di calcio e per la messa in sicurezza del territorio, provocata dalle acque piovane nel periodo invernale. Allustrato infine il suo progetto per la promozione del turismo sportivo outdoor.